va bene parto bene piccola introduzione questo non è un documento esotivo è una ricerca personale non mi considero un guru dell'argomento e voglio condividere con voi una serie di idee di spunti sperando che vi diano possibilità di riflessione e di migliorare alcuni tipi di conoscenze anche se in maniera inopportuna vedrete che c'è un alternarsi dei termini http api o rest api o web api non sono in realtà la stessa cosa ma in questa presentazione le user in maniera diciamo così intercambiabili non vi parlerò di open api ram api blueprint async api perché sono elementi molto più tecnici e so che starete già smanettando pesantemente su tutto questo quindi per cambiare un po aria per farvi vedere quello che sta accadendo non voglio dire nel sottobosco perché comunque un mainstream ma altrove nel mondo delle api vediamo questo questo piccola questo piccolo percorso e inizio in una maniera un po strana anche perché l'orario poi semmai ci aiuta vi lascio poi con con l'appetito cosa può insegnarci un risotto e beh se noi consideriamo i risotti in busta possiamo ottenere tutta una serie di considerazioni sia dal punto di vista di chi lo consuma che dal punto di vista di chi lo produce perché dal punto di vista del consumatore il risotto in busta soddisfa un'esigenza precisa è facile da trovare ha una confezione che normalmente pratica e semplice è facilmente riconoscibile cioè facile capire di che cosa si tratta a un logo preciso e altre coordinate una facilità di utilizzo è una forte differenziazione gusti diversi così come è facile portarlo a casa e utilizzato e indicazioni di utilizzo di base quindi la preparazione ma anche istruzioni più avanzate perché normalmente intravediamo delle ricette altre considerazioni riguardano il produttore del risotto perché sta affrontando un mercato differenziato facilita la distribuzione nazionale estera di un determinato prodotto ha differenti possibilità nell'essere controllato come prodotto perché ha una sua redditività ed è ed esistono delle partnership per questo tipo di produzione siccome è studiato per un riutilizzo degli degli ingredienti e del delle materie prime c'è anche un'ottimizzazione delle linee di produzione e vi è anche ricerca e sviluppo che in questo caso culinario riguarda sia le ricette che la preparazione del risotto in busta tutto questo è nascosto dietro un prodotto tutto sommato innocuo che vediamo ogni giorno che non abbiamo mai considerato ora pensiamo invece alle piai dei nostri servizi a questo punto normalmente la pressione va un po giù perché non si riesce veramente a riportare tutto questo valore all'interno dei nostri artefatti questo perché generalmente non affrontiamo le piai come prodotto ma che cos'è un prodotto un prodotto ha un'etichetta viene confezionato è facile da usare è documentato e ed è supportato da un business e in più nasce da dalla considerazione dalle considerazioni dallo studio che deriva da incrociare tre domande che sono è desiderabile a un posto sul mercato sappiamo farlo non solo considerare un prodotto il prodotto significa anche essere time to market e questo lo sappiamo ma a sua volta significa riuscire ad avere un minimum valuable product perché normalmente date le evoluzioni la rapidità delle evoluzioni sul mercato conviene concentrarsi nell'offrire caratteristiche ben precise e minimali anche se trasversali a tutto lo spettro di utilità del prodotto e quindi continuare a iterare sul suo miglioramento ma soddisfare continuamente le esigenze dell'utente finale le piai quindi negli ultimi anni sono passati da essere un semplice strumento tecnico a un vero e proprio driver del modello di business ecco che possono essere riutilizzate condivise e monetizzate le piai quindi devono essere viste come un prodotto costruito sia su un discorso tecnico che su uno studio dei rapporti commerciali con terze parti e dei propri asset aziendali la monetizzazione delle piai segue molte direttive io qui ho riportato uno schema e alcuni articoli di riferimento estremamente utili è un diciamo un modo di vedere le piai assolutamente sorprendente soprattutto quando si cerca di monetizzarle e vediamo quindi dei filoni possibili che vanno dalla operatività diretta con le piai e quindi il pay per use fino a quelli che sono invece degli utilizzi e delle monetizzazioni indirette un api quindi non serve esporre un asse tecnico come ad esempio un database ma l'obiettivo è esporre il valore di un asse quindi non esporre l'asse ma il valore di quell'asse ecco che quindi le piai diventa un'interfaccia di accesso verso una proposizione di valore ecco quindi che dal semplice concetto di api siamo passati a quello di api as product e quindi di velio proposition interface quindi le api non sono più orientate all'applicativo ma vengono progettati insieme al business per far vedere e offrire quindi al mercato quelle che sono i valori dell'azienda la proposizione di valore dell'azienda qui riporto quello che è diventato un libro di riferimento su quella che è la gestione delle piai è un libro estremamente interessante perché abbina aspetti tecnici e aspetti di business in un'unica struttura ed è veramente interessante e ho riportato anche un video di riferimento altrettanto interessante se volete il colpo d'occhio sulla metodologia api come prodotto ma anche una visione user centric e piuttosto che discuterne in altro modo voluto riportare dal blog di zalando quella che è una loro dichiarazione di intenti essere customer obsessed ma allo stesso tempo vedere le api come prodotto questo come direttiva per poi mettersi nei panni del cliente e comunque disegnare delle piai che siano ben fatte esplicitamente definite riusabili e così via non solo per via come prodotto ma anche e piai first come principio nel design dei dei servizi e piai e seo sembrerebbero un connubio abbastanza strano visto il fatto che il mondo seo nasce dalla potenza sempre più evidente dei front end e dalla esperienza utente che diventa sempre più completa e sempre più complessa in realtà anche le piai hanno un interfacciamento verso il mondo seo per motivi differenti il primo quello più evidente e che proprio grazie alle piai offerti da i provider dei motori di ricerca si può accedere in maniera molto più fine e in maniera anche orchestabile tutti quelli che sono gli elementi seo sem e smm per i propri siti altro aspetto interessante è quello che l'avvento delle piai in strumenti come ad esempio i cms e quindi la natura headless di molti strumenti fa sì che si perda un po il contatto col mondo seo e quindi bisogna stare attenti nelle scelte e ricordarsi che va ricreato va ristudiato allorché essi vogliano adottare strumenti edless l'ultimo aspetto su cui sono collegati e sicuramente l'ottimizzazione dei siti soprattutto quelli pubblici a supporto delle piai attirare sviluppatori e noi lo possiamo vedere ogni giorno soprattutto le grandi aziende le internet company non fanno altro che avere dei siti specializzati per le proprie piai e questi sono soggetti a indicizzazione e quindi a un rapporto con diciamo così perlomeno col mondo seo che deve essere curato ea cui bisogna stare attenti epi vuol dire quindi prodotto e vuol dire economia legata a tutto ciò che è un mercato gestito tramite connessione epi ecco che riesco ad avere una capacità di crescita del mio business che non mi sarei aspettato in precedenza proprio perché riesco a fare sinergia tra gli asseti aziendali i servizi di terze parti e quello che è anche il comportamento dell'utente finale questo discorso è stato capito ed è cresciuto nel tempo negli ultimi dieci anni sicuramente e porta dei valori se si studia il mercato veramente interessante non solo per le quantità in termini monetari ma anche per la tipologia di interazione e per quanto le persone vadano a interagire più con servizi nati da epi che non sulla modalità fisica o sui classici siti o i classici fronte non solo epi economy ma una distinzione tra macro e micro economy distinguendo le epi rispetto a quelli che possono essere i consumatori delle epi stesse e quindi possiamo parlare di epi interne e quindi private o quelle invece fornite a dei partner o offerti al mondo intero questa differenziazione che sembra abbastanza banale in realtà ha importanza non solo su quelli che possono essere le metriche legate alle epi soprattutto se viste come prodotto ma hanno anche importanza per quello che è il risvolto tecnico per come vado ad affrontare se c'è più un accento verso l'integrazione verso l'ottimizzazione delle comunicazioni verso la flessibilità o verso quello che può essere un discorso marketing sono sempre epi ma modellazione e gestione vengono influenzate dal dalla loro collocazione rispetto alle terze parti e quindi mi raccomando anche internamente posso vederle come prodotto chi è l'acquirente del mio prodotto sarà un'altra business unit un altro ufficio ma è sempre un prodotto il discorso di avere dei prodotti porta anche al concetto di marketplace collegato a quello di epi economy e quindi l'offerta di valore aggiunto che un'azienda propone differenziando l'offerta e quindi avendo prodotti differenti non solo il concetto di marketplace effettivamente ha creato la possibilità di avere da una parte degli aggregatori di epi il cui business è proprio quello di creare dei marketplace specializzati e dall'altro la presenza di investitori sui vari marketplace delle epi particolarmente ereditizie o che riguardano settori particolarmente ereditizie o in trend rispetto al mercato possono ricevere round di investimenti e ci sono società specializzate in svolgere queste attività ecco che le piai da strumento tecnico assumono un aspetto del tutto imprevisto rispetto a quello che è la quotidianità intravista dal tecnico questo discorso lo potete vedere da questa valutazione io riporto anche l'articolo di riferimento che fa vedere come si può arrivare questo gli dati sono del 2020 addirittura a considerare per certi aspetti il mercato delle epi come più redditizio di quello del software as a service vi riporto quelli che sono dei libri di riferimento con i siti e quindi prendiamo un attimo di respiro e vi lascio alle prime domande prima di passare alla prossima parte arrivo subito ok vedete vedete la schermata io non vedo nulla non vedi la schermata le domande rinizio la condivisione nulla no porca eh fatemi un secondo si vede angelo si vede si 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 vedeva così ecco quindi la progettazione delle epi in un'ottica di smsa su marketplace la peculiarità rispetto a centralizzare la progettazione partendo dal prodotto allora se la devo mettere in un marketplace la sto già considerando come prodotto più che altro la differenza sicuramente si innesca quando non la considero come prodotto o quando per motivi ad esempio di adeguamenti normativi sono costretto a realizzare un epi di un certo tipo che viene pubblicata e mi ritrovo probabilmente un elemento isolato rispetto a quella che sarebbe l'intenzione di riutilizzare le epi a maggior ragione se fosse una realizzazione a uso interno e quindi mi ritrovo di più in un discorso usa e getta ecco vedo vedo questa differenza poi come vedremo dopo il discorso di dire epi come prodotto significa anche adottare un certo tipo di strumenti e probabilmente ci si accorge che si sta prendendo la strada giusta o meno proprio grazie a questi strumenti ok c'è anche un'altra domanda questo è veramente interessante in realtà per quanto riguarda le internet company o le aziende che nativamente nascono con epi quindi tutte le startup di nuova generazione soprattutto estere sostanzialmente hanno un investitore dietro la schiena questo fa sì che abbiano già una valutazione e siano già collocate su uno specifico marketplace quindi fa parte mettiamola così del business case prima della nascita del prodotto questo non vuol dire che non ci possa essere non è proprio il mio campo perché comunque io ho una natura tecnica però guardando soprattutto il mercato asiatico dove sono molto forti gli investimenti e i round di investimento sulle startup quello che sembra esserci è la realizzazione di un MVP che dà i target in termini di segmento di market quindi quale mercato voglio andare a colpire e quanta elasticità ho per crescere quindi sia nell'offerta sia nello scaling diciamo del pubblico in base a questo tiro su un round di investitori che mi finanziano e grazie ai quali riesco a stabilire per esempio l'abbonamento perché generalmente esce fuori una formula di abbonamento perché vengano consumate le mie API e da questo poi con gli aggiustamenti dovuti all'effettivo utilizzo sul mercato ne esce fuori la valutazione e quindi il prezzo questo mi permetto di dire comunque da profano va bene, per ora non ci sono altre domande Stefano quindi se vuoi puoi riprendere il controllo dello screen sharing ok ok andiamo avanti e cominciamo a scendere un po' più in profondità le API quindi oggi non sono più lo strumento tecnico di una volta e basta ma sono diventato l'argomento che racchiude un vero e proprio universo di concetti che si traducono poi in artefatti, in metodologie, in conferenze, libri e quant'altro veramente un universo io qui ho riportato una mappa mentale di riferimento ma è soltanto una piccolissima parte di quello che è il mondo delle API oggi attenzione, io come ho accennato all'inizio mi sto riferendo al mondo web o comunque API e HTTP ma le API possono anche non essere HTTP e possono riguardare i vari linguaggi e c'è anche tutto l'universo legato all'API diciamo di linguaggio un po' più in senso stretto rimanendo però su questa tematica l'API come prodotto vuole anche un team predisposto in maniera opportuna ecco che sono nate delle figure alternative e anche delle geometrie di team differenti riporto quelli che possono essere considerati i ruoli fondamentali per una visione abbastanza completa di quello che è il mondo dell'API as product e quindi avere un API architect o un API designer un product owner dedicato all'ennesima famiglia di prodotti quindi alle date API per segmento di mercato un evangelist per non solo fare evangelizzazione in senso stretto verso gli sviluppatori ma anche essere quella tradunione rispetto al mondo business e al mondo esterno quindi avere un evangelista di quelli che sono i valori raccolte nell'API dell'azienda come far emergere anche gli aspetti tecnici gli sforzi e il colloquio con quello che è il pubblico finale dell'API che poi vedremo essere in primis di altri sviluppatori logicamente lo sviluppatore di API il tester nel mondo QA è un'ulteriore figura del mondo che chiameremmo normalmente DevOps ma che poi come vi mostrerò oggi viene anche definito API Ops la definizione di un team è condizionata effettivamente sia dalle dimensioni che dalle esigenze aziendali qui giusto per far vedere un discorso, una piccola geometria potrei avere per ogni prodotto differenti team ma avere anche un team di riferimento un platform team che permette di promulgare sia quelli che sono le best practices le linee guida ospitare l'architetto e gli evangelisti e quindi avere un filo conduttore per tutta l'azienda in relazione all'API da sviluppare API all'interno di un team significa anche adottare delle linee guida vi ho riportato quelli che sono probabilmente i siti più famosi in relazione alla definizione di linee guida il primo che è stato sviluppato a partire dal 2016 ed è una raccolta di diversi style book e l'altro che è di Zalando che a mio parere è una delle guideline più complete che si possono trovare sul mercato oggi è apparso anche un nuovo tipo di concetto invece delle linee guida che alcune volte incontrano grosse difficoltà di penetrazione in team soprattutto differenziati o in team di grosse dimensioni si sta ipotizzando un altro tipo di approccio mutuando l'esperienza dei design system per chi vive e opera nel mondo del front end ha più familiare questo concetto in questo momento vi do soltanto un accenno ma è interessante da approfondire come discorso il design system sostanzialmente nasce nel mondo del front end per unificare due concetti quello del design atomico che viene visto più come un discorso un approccio diciamo così tecnico con quello che invece è una visione allargata del front end e del design su tutta l'azienda e quindi il design insiste come raccolta di regole elementi tecnici best practice e quello che è il linguaggio visuale del front end di un'azienda ecco invece di parlare di front end se noi parliamo di API lo sforzo che questa idea propone è quello di avere elementi atomici che caratterizzano l'API quindi le informazioni di massima nel caso delle HTTP API i verbi utilizzati quelli che possono essere l'utilizzo di particolari header o i principi da seguire operare in maniera componibile e per ogni azienda arrivare a quello che è il linguaggio aziendale delle API è un qualcosa assolutamente recente ma fa capire come si senta l'esigenza di avere nuovi strumenti per riuscire ad arrivare a un'adozione a un sistema di collaborazione nell'utilizzo e nell'adozione delle API in relazione agli strumenti concettuali che può avere un product owner dedicato a delle API ecco che esistono due canvas tra l'altro il primo deriva da quello che è il mondo intorno al business canvas il values proposition canvas quindi non è necessariamente collegato al mondo delle API e vi ho messo due riferimenti sostanzialmente in italiano che sono ben fatti e danno molto l'idea dell'utilizzo di questo tipo di canvas molto brevemente se io devo valutare l'API come un prodotto devo vedere quali sono tutti gli elementi che possono essere positivi o negativi da un punto di vista dell'utente e per quale motivo l'utente dovrebbe richiedere quell'API e come dall'altro lato invece la value proposition si definisce andando a soddisfare quelle che sono le esigenze oppure diminuendo i pain point dell'utente e quindi soddisfacendo un certo tipo di esigenza ma anche un canvas molto più importante e delicato dove vedete comunque al centro c'è il concetto di value proposition che però mi permette di analizzare in maniera sintetica tutti quelli che sono gli elementi a contorno dell'API visto come prodotto per poi scendere a declinarla da un punto di vista tecnico questo lo faccio vedere e risponde spero un po' anche alla prima domanda che avevamo visto all'inizio perché se io comincio a stendere in maniera ripeto lo sforzo è essere sintetici essere molto prammatici in questi canvas quelli che sono gli elementi decisionali legati alla mia API ecco che vedo se sto sbagliando il tio diciamo così il discorso di avere dell'API come prodotto deve scendere a un livello tecnico e questo vuol dire un ciclo di vita ecco perché andiamo a utilizzare anche determinati configurazioni determinate geometrie di team e determinate professionalità e come dicevo attenzione non è solo un mondo rivolto alle API pubbliche ma anche a quelle interne un vero e proprio ciclo di vita teoricamente virtuoso e quindi continuo che permette di far crescere quello che sono gli asset aziendali e il valore percepito di questi asset all'esterno con un rientro quindi un feedback rispetto al mercato degli utilizzatori che teoricamente fanno bene all'azienda che riesce quindi a rinnovare la propria produzione questo però significa come abbiamo visto geometrie di team ma anche gestione gestione che ha bisogno di ingredienti fondamentali e quindi abbiamo bisogno di un API registry come inventario delle API di un'organizzazione un po' le pagine bianche del caso che permetteranno anche di catalogare versioni supportare la promozione dell'API ma anche la dismissione delle stesse così come un API gateway principale intermediario soprattutto per quanto riguarda le API pubbliche in maniera di riuscire a racchiudere in degli strati specializzati quelli che possono essere degli aspetti tecnici trasversali che devono essere costantemente tenuti sotto controllo come la sicurezza o il logging e le availability delle API stesse logicamente questo apre tutto un discorso enorme che qui tralascio relativamente invece ai micro gateway o ai back end for front end in relazione ai micro servizi lascio soltanto la pulce nell'orecchio di dire gli API gateway hanno un compito differente ma allo stesso tempo aprono a quello che è una discussione di distinzione tra contratto verso il mondo esterno rispetto a quello che è il servizio vero e proprio e sua gestione nel traffico nord-est est-ovest il portale per gli sviluppatori è invece lo strumento che rende umano l'aspetto tecnico e organizzativo della gestione delle API e permette anche di avere delle comunicazioni che favoriscono l'aspetto di promozione delle API come prodotto e quindi lo sviluppatore come avevo anticipato è al centro del consumo delle API bisogna prestare attenzione e si parla di developer experience proprio perché nasce dal connubio di quella che è la user experience e invece dei concetti di sviluppo supportare lo sviluppatore avere delle buone pratiche avere un modo comodo di erogare le API e portare gli esempi così come era comodo usufruire di un risotto è una cosa fondamentale per quelli che vengono definiti i programmi di adozione relative l'API API come prodotto l'utilizzo di questi strumenti geometrie di team ma anche automatizzare il connubio di tutti questi ingredienti in una ricetta che permetta una continuous integration una continuous delivery e ritorniamo quindi ai principi del DevOps che qui vengono declinati insieme a quelli del GitOps vista la particolarità dell'API portandoci al concetto di API Ops questa visione è stata per la prima volta presentata intorno 2016 2017 da un'iniziativa ancora oggi esistente che appunto si chiama API Ops Cycle di cui vi ho riportato i riferimenti a oggi molti prodotti parlano di API Ops hanno anche la propria offerta o predisposizione ma in generale come vedete dall'immagine il concetto è assolutamente assimilabile a quanto visto a quello che per esempio può essere il mondo dei microservizi in termini di continuous integration e continuous delivery anche qui vi ho riportato alcuni riferimenti di aziende importanti di nuovo qualche libro priva di ridarvi di nuovo la parola e passare all'ultima parte bene proiettiamo ancora lo strumento per le domande vediamo se riesco a fare il primo colpo questa volta ecco ci sono sempre due domande rivedi Stefano sì ok allora fare emergere il valore delle API con gli stakeholder in realtà significa in primis avere chiaro quello che è lo studio del segment che si vuole colpire perché in questa maniera si può far vedere quali sono i valori degli asset che si vogliono portare fuori perché come dicevamo tutto nasce dalla possibilità da capire che nel mondo esterno ma anche ragionando all'interno servono degli strumenti ci sono delle esigenze che devono essere soddisfatte quindi io ti faccio vedere che esiste un'esigenza vendimi la penna presa dal film in realtà il trucco di vendimi la penna e firmami questo foglio perché perché in realtà io devo prima creare o scoprire le esigenze se io riesco a soddisfare un'esigenza poi come il marketing ci insegna potrei riuscire a creare delle altre esigenze al prossimo giro e quindi costruire quello che poi vedremo essere il ciclo di vita di un prodotto spero di aver risposto ecco andiamo alla prossima direi sì questo questa frase fa aprire un altro io non l'ho messo esplicitamente però c'è una riflessione abbastanza sudola su cui bisogna stare attenti che un po' si intravede per chi vive del mondo SEO appunto quando si parla di API effettivamente c'è un enorme mercato legato al mondo SEO al mondo dei front-end moderni per come c'è l'esperienza utente e così via ma se le API diventano il mio nuovo front-end perché in realtà io do il rischio al mondo esterno di creare un front-end io do soltanto un valore aggiunto do delle API fatte apposta per creare dei front-end questa per esempio può essere una differenza rispetto delle API interne ma il discorso diventa quanto offrire pubblicamente delle API che permettono di creare dei front-end flessibili può cannibalizzare quella che invece è la realizzazione del mio front-end o la presenza del mio front-end sul mercato perché effettivamente le mie API se viste come prodotto offerte come prodotto e posizionate nella maniera giusta possono distogliere l'attenzione rispetto a quello che è uno degli artefatti o comunque touch point principali cioè il mio front-end ok quindi nell'equilibrio tra la visione puramente di offerta di quello che poi andiamo a dire ah sto andando a offrire all'esterno dei servizi tramite API in realtà nello studio e per esempio legandomi alla domanda precedente nel presentare il quadro agli stakeholder bisogna anche far vedere come probabilmente sto offrendo un canale di funzione differente che può dare del valore aggiunto implicito per esempio dei market share nascosti perché non mi espongo direttamente ma allo stesso tempo degli altri canali come ad esempio nascondere sotto un'icona tutta una serie di API quindi trasformo i miei servizi in un widget facendo client mashup posso ottenere un valore aggiunto e di nuovo dei market share dove nell'utente finale nell'azienda diciamo erogatrice si rende conto ok non sembra non esserci altre domande puoi proseguire riprendendo il controllo della visione andiamo un po' più sul tecnico e andiamo a chiudere questo discorso come vi accennavo dobbiamo parlare anche di ciclo di vita del prodotto perché un prodotto ha una fase di concezione di progettazione produzione distribuzione utilizzo e dismissione salvo che alcune volte nella fase macroscopica di declino io riesca a rivitalizzare il prodotto perché faccio innovazione che è un po' quella che è la speranza in fin dei conti di lavorare con l'API ma soprattutto di lavorare sugli analytics legati all'API avere delle hints dai comportamenti degli utenti e da quelle che sono le reazioni rispetto invece alla mia previsione di utilizzo sul mercato le API quindi devono essere considerate anche nel loro ciclo di vita che non è solo un ciclo di vita tecnico ma viene affiancato da uno di operation come vedevamo API OPS e di business perché è un prodotto concepito in quanto tale con un supporto specifico e con un prodotto come tecnicamente viene supportato tutto questo dobbiamo stare attenti alla possibilità che ci offrono una serie di API la principale o meglio una delle più interessanti è quella di deprecation che permette di mettere in evidenza come un API stia per andare in dismissione è sostanzialmente un warning sull'utilizzo che invece di usare dei canali umani è fatto apposta perché un client o un altro server possano rendersi conto dello status di deprecation appunto di queste API che può essere nel passato perché è già avvenuta o che avverrà o che è definitivamente deprecata queste possibilità riguardano una specifica vera e propria come avete visto è un header HTTP che può essere affiancato da un altro header quello legato alla specifica del web linking per specificare il ruolo del leader stesso così come per eventualmente indicare invece degli indirizzi alternativi all'API che si va a deprecare oltre a questo siccome un prodotto può essere definitivamente dismesso ecco un'ulteriore specifica che è possibile utilizzare quella di sunset anche qui un extra header che può essere affiancato a quello di deprecation per dare una visione completa di quello che è il ciclo di dismissione dell'API stessa anche qui un header legato al web linking permette di precisare ulteriori informazioni che generalmente o sono caratterizzanti danno una semantica di quello che si andrà a presentare all'utente finale oppure danno l'indirizzo dell'API alternativa che sostituisce quindi quella in via di dismissione la gestione degli errori è un altro argomento abbastanza sentito dal punto di vista dell'API che in passato è stato affrontato sempre con gli HTTP status e in particolare ho riportato una vignetta particolarmente ironica dove si vede quello che è capitato più volte in passato nella continua esigenza di avere delle API da un certo punto di vista resilienti ma anche l'esigenza di esprimere degli errori questo aveva portato specie in passato nella cattiva pratica di restituire comunque dei 200 e nascondere l'errore all'interno del corpo della risposta creando poi delle semantiche abbastanza distorte questo discorso non è più accettabile oggi perché possiamo operare meglio sia utilizzando una ricca quantità di HTTP status ma lì dove non basti è possibile utilizzare delle altre specifiche come vedete il fatto di non utilizzare solo gli HTTP status sta anche nel fatto che bisogna spesso convogliare altre informazioni e in passato le internet company hanno provato e sperimentato formati più diversi in base a delle esigenze diverse come anche nel caso di Facebook che addirittura ha famiglie di API che rappresentano de facto i loro prodotti che sin anche nella gestione degli errori hanno delle semantiche totalmente differenti e allora per venire incontro a questo discorso ecco che l'RFC 7807 la Problem Detail for HTTP APIs è una specifica che propone un formato estremamente flessibile supporto di informazioni aggiuntive è un formato comunque estendibile supporta anche possibilità di supportare errori multipli e ha alcune considerazioni di sicurezza che lo rendono diciamo security friendly entro certi limiti la cosa interessante è che è previsto un content type specifico di cui i default sono il formato JSON e XML si ha un corpo per questo tipo di gestione di formato che prevede come campo obbligatorio il type che la cosa interessante è che è un URI questo perché è previsto a livello di specifica una redirect che può avvenire anche a livello di browser quindi l'indirizzo riportato nel type potrebbe essere un indirizzo reale questo a favore di un eventuale utilizzo da parte di utenti umani perché possano vedere la documentazione eventualmente generata per quella API abbiamo poi un title che riassume a livello human readable quello che è l'errore ma ci sono altre informazioni la cosa interessante è anche il campo instance anche questo può essere un URI anche qui la possibilità di una redirect è una cosa sufficientemente interessante perché pensate alla possibilità di avere o un urn diciamola all'italiana che rappresenti simbolicamente una famiglia di problemi o che funzioni da chiave rispetto a un altro tipo di servizio da interrogare oppure una vera e propria redirect verso quello che invece è uno spazio di indirizzi che però richiede l'autenticazione per poter accedere questo perché per esempio io posso avere una gestione degli errori specifica di granularità molto grossa per tutti ma un'altra molto più dettagliata che però è accessibile solo con autenticazione qui abbiamo due esempi del formato sia in json che in xml altra cosa interessante che questa specifica supporta è l'http status 207 spesso sconosciuto ma che permette una cosa importantissima il multistatus generalmente espresso in xml è adattabile a json e permette quindi di avere una risposta unica per una richiesta che in realtà è un bundle di richieste questo permette anche una modellazione estremamente più efficace e serve per riportare errori che derivano per esempio se proprio vogliamo vederla da un punto di vista dei microservizi quando in un servizio di aggregazione io ho la necessità di riportare il motivo di fallimento di una parte e non dell'insieme altra specifica di nuova generazione estremamente utile ma ancora in via diciamo di evoluzione è quella che permette di recepire i warning quindi l'operazione principale è avvenuta con successo ma io devo notificare di un qualche side effect è stato sviluppato un content type è un leader specifico e quindi il content warning per ora con un unico valore embedded warning la rappresentazione preferenziale è JSON e abbiamo questo tipo di situazione quindi nella risposta che ha successo ma che può avere un side effect negativo o un errore nascosto io esprimo una serie di warning per chi giusto per fare un esempio possiamo ragionare anche a quello che accade per esempio nel mondo sequel nel mondo dei dv dove posso differenziare tra l'errore e i warning che sono gestibili e hanno delle conseguenze assolutamente differenti qui riportiamo la stessa la stessa esigenza si noti anche la presenza di un timestamp altra specifica importante che è stata riscritta abbandonando la vecchia dicitura con prefisso x meno è quello del rate limiting è diventato importantissimo in conseguenza delle esperienze delle internet company la capacità di distinguere in maniera impropria definiremmo degli islam ma in maniera forse più appropriata parliamo di quota relativamente all'erogazione delle diverse API questo non solo per differenziare la clientela ma anche come sistema di resilienza verso le API soprattutto quelle esposte al pubblico ma questo stesso concetto vale assolutamente per quelle interne allorché abbia a che fare con risorse preziose dove l'esposizione per esempio di specifici data tier dove ho l'esigenza di difendere appunto il data tier come risorsa limitata ed ecco che la specifica permette la nuova specifica permette di essere estremamente precisi facendo scoprire alla controparte chiamante quanto deve aspettare o quali sono gli slot di chiamata ancora a sua disposizione e anche informazioni di natura temporale un HTTP status specifico il 429 permette di indicare come minimo questo tipo di problema il versioning dell'API è un'altra questione estremamente dibattuta ho riportato quelli che sono le tecniche normalmente utilizzate quindi non mi fermo le cito soltanto quella del versioning by uri piuttosto che tramite quelli string normalmente non utilizzata ma ancora presente in alcune API pubbliche l'utilizzo di extra header o header o mime type specifici tutto questo è quello che potete normalmente vedere con diciamo così la forma favorita che è quella di inserire nell'uri dell'API una qualche versione in realtà negli anni sono state eseguite altre strade riporto due esempi eclatanti per cercare di non avere il versioning direttamente sull'API ma ragionare più sull'infrastruttura di produzione dell'API ad esempio correvare l'API a quella che è effettivamente la codebase che l'ha determinata o in termini di specifiche o in termini di metadati o in termini di rilascio sono state tentate anche delle API che non hanno come nel caso di Badoo assolutamente alcuna politica di versionamento ma sono adattive perché giocano sulla content negotiation per far scoprire quali sono le caratteristiche supportate da una data API ulteriore specifica di nuova generazione che nasce dalla diffusione dell'API su internet e dai microservizi e l'health check response format questo fa sì che quelle che sono gli health check che troviamo soprattutto nel mondo dei container e dei microservizi ospitati nelle nelle bus possa essere unificato nel formato e nella richiesta HTTP ci sono degli esempi eclatanti di utilizzo nelle documentazioni di TIC e di Stoplight che sono due aziende in questo momento diciamo particolarmente in testa al mondo dell'API e abbiamo un formato che prevede sia un media type specifico sia degli attributi di riferimento dove l'elemento obbligatorio è quello dello status con dei valori che sono direttamente correlati ai possibili HTTP status da rilasciare si noti che sono già previsti degli alias che vengono incontro a quelli che sono gli attuali health check del mondo Java del mondo Node.js in quanto statisticamente offrono la maggiore copertura sia del mondo API che del mondo container attualmente in atto ci sono però tanti altri campi opzionali che permettono una descrizione effettivamente completa di tutte quelle che sono le risorse da controllare e di cui verificare lo stato di salute è in studio anche un'estensione dell'HTTP un metodo search questo per venire incontro a quella che è l'esperienza ad esempio di GraphQL avere quindi un metodo safe che permette di trasportare in un qualche modo delle query nell'esempio c'è un MIME type application SQL ma potrebbe essere application GraphQL o altro e che permette quindi di interrogare in maniera specifica passando tutte le coordinate di Quiring pur quindi ho un corpo ma ottengo mi sto mettendo in uno scenario di sola lettura non ho side effect sulla mia risorsa questa è una cosa che non trovava spazio nelle abbinate con i metodi classici del mondo HTTP e quindi è in studio questo tipo di metodo che verrà probabilmente affiancato dagli ulteriori leader soprattutto di risposta per quelle che possono essere delle contrattazioni delle content negotiation a favore della tipologia del formalismo di Quiring supportato e quindi leader accept search e accept patch chiudo questo discorso tecnico con delle veloci hints che spero vi aiutino e cioè quello di non sottovalutare e di considerare sempre nella progettazione quello che sarà l'effettiva content negotiation dei vostri delle vostre API perché grazie alla content negotiation in realtà voi potete gestire tantissime cose dare delle hints relative alla compressione all'internazionalization l'introspezione quindi le capacità che quelle API ha non sottovalutate quindi l'analisi e il design di questo tipo di informazione gli HTTP status sono tantissimi e hanno delle semantiche potenti spesso spesso in API che supportano la cancellazione di risorse non si fa distinzione tra la possibilità di veicolare l'utilizzatore l'informazione che quella risorsa esisteva ma adesso è stata cancellata quindi un 410 che invece spesso collassa nell'unico HTTP status 404 del not found il 202 ACCEP che ora è diventato un pochino più di moda vista la necessità di avere delle API soprattutto REST che in un qualche modo siano parzialmente anche solo parzialmente asincroni in realtà ha anche un'altra declinazione grazie all'ostetus 102 che permette di pingare un processamento più lungo senza avere un unico momento transazionale come nel caso dello status 202 attenzione sempre a differenziare la famiglia 400X vedete bene ciò che è una mancanza di autenticazione da una di autorizzazione abbiamo visto quanto può essere utile l'HTTP status 207 così come il 429 e come ultima cosa vi ricordo che se soprattutto internamente si può venire in accordo su una sufficiente intelligenza e complessità del client e quindi non solo del server quindi chi consuma le API sicuramente un grosso valore aggiunto lo dà un approccio ipermediale e quindi embeddare i link di riferimento all'interno della risposta giusto come chicca è stata da poco approvata un'ulteriore specifica per evitare di avere delle risposte ipermediali troppo grosse per cui il web linking set permette di esporre eventualmente soltanto i link dei metadati di una data invocazione questo permette di ottenere un vero approccio restful e un vero discovery e navigazione delle vostre API tutto questo è molto 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 altro compreso l'usabilità delle API e tante altre chicche sono racchiusi in questi tre libri con cui chiudo il mio intervento ringraziandovi dalla vostra pazienza grazie mille a te Stefano innanzitutto andiamo a vedere se sono arrivate le ultime domande diciamo della serata vado a castare eccoci allora GraphQL allora GraphQL sta avendo un grosso successo per la possibilità di tutto ciò che è manipolazione dei dati la posizione ufficiale di quelli che sono diciamo così i guru di riferimento pennella design delle API è di vedere GraphQL assolutamente prezioso in tutto ciò che è dietro a un API gateway quindi per permettere diciamo così l'aggregazione di API interne prima che queste vengano esposte al mondo esterno le scelte di alcune internet company come per esempio Netflix fanno invece vedere un utilizzo contrario ma qui c'è già una trappola se noi andiamo a vedere proprio l'utilizzo di Netflix in realtà c'è un doppio interesse da una parte la realizzazione di un'infrastruttura che poi è stata messa open source e come sappiamo permetterà a Netflix di far crescere il suo prodotto ma allo stesso tempo di far crescere Spring Boot perché è già collegato a un bel connettore che permette di utilizzare il GraphQL federato di Netflix ma poi attenzione a questo termine federato perché Netflix ha dovuto affrontare i limiti dell'attuale specifica GraphQL soprattutto su una dimensione estremamente grande e differenziata di concetti di business che portava a una situazione irrealizzabile con un approccio GraphQL standard è stato necessario prendere e federare differenti server GraphQL a loro volta dedicati a dei domini di business specifici quindi GraphQL grosse potenzialità anche sul front-end che per assurdo vede un grosso una grossa serie di strumenti anche se specialistici a disposizione e quindi se da una parte teoricamente ci si affronta ci si poggia su quello che dovrebbe essere un discorso server-side troviamo il GraphQL soprattutto come approccio per interrogare nell'ambito di single page application o progressive web application visti client l'enorme potenzialità dei client di front in realtà quello che nasconde la potenza di GraphQL sono dei middleware di front-end che in alcuni casi si possono vedere come le evoluzioni dei BFF di un tempo ma specializzati nell'utilizzare in maniera puntuale e potente quella che è la specifica GraphQL il mondo il mondo HTTP classico come vi ho fatto vedere per esempio col metodo sperimentale search sta cercando di inglobare anche l'utilità di GraphQL e farlo rientrare nel set di diciamo specifiche supportabili direttamente dal mondo HTTP spero di aver risposto direi proprio di sì andiamo alla successiva ah ok ok va bene no allora interessantissima e fa il paio con quello che è il trend per esempio del TypeScript nel front-end questo questo connubio è sicuramente evidente visto che GraphQL al di fuori della specifica in senso stretto introduce una tipizzazione all'interno del sia delle query che dei manipolatori e questo è estremamente potente è stato concepito in un momento in cui c'era un grosso vuoto di potere soprattutto del mondo rest adesso le cose sono cambiate però sicuramente chapeau a chi ha realizzato l'API e alle possibilità un aspetto interessante un utilizzo interessante lo potete provare in relazione a Vogue la rivista che è migrata da un sistema di contenutistica appoggiata a CMS CRM custom di tipo REST e coordinati da una serie di API gateway a l'utilizzo di più BFF di tipo GraphQL che permettono l'integrazione sia di data tier espliciti opportunamente trasformati in API REST ma di tipo CRUD classico con invece API legacy o le API REST dei dei prodotti stessi cosa interessante i moderni CMS hanno degli adapter o addirittura interi strati che sono già GraphQL ottimo andiamo alla successiva che poi credo sia l'ultima ok allora qui c'è tutto un discorso la verità è che a oggi bisogna fare la grossa distinzione fin quando io voglio qualcosa di human readable e voglio facilitare il discorso di essere human readable JSON rimane diciamo uno standard di fatto ed è estremamente comodo appena io devo rifarmi a un discorso di efficienza devo andare su un formato binario ci sono stati dei tentativi come message pack di abbinare una cosa e l'altra però di fatto la trasmissione è binaria quindi poi bisogna avere degli strumenti appositi per avere delle traduzioni ci sono anche stati tentativi nelle internet company di abbinare una trasmissione diciamo JSON a una compressione anche perché è supportata per esempio dai browser proprio in content negotiation oramai sono supportati una grossa quantità di encoder per la compressione e allora si ipotizza una trasmissione per grosse dimensioni ci sono altri formati sì è un mercato assolutamente aperto la diatriba sull'API di fatto forse JSON o non JSON è stata più visibile in relazione alle configurazioni diciamo del mondo DevOps più che sull'API sull'API di per sé anche se si è cercato c'è stato un momento tra il 2014 2016 dove lo YAML più che per le configurazioni si pensava di averlo nella trasmissione appunto di API ma questa cosa poi non ha preso non ha preso più piede sinceramente poi non ho visto altre grosse novità ok basta direi che non ci sono altre domande se qualcuno le avesse può aprire il microfono e farle direttamente se non c'è nessun altro io ringrazio Stefano per questo bellissimo talk che caricheremo sicuramente sul nostro canale YouTube nei prossimi giorni e vi tratterrei ancora qualche minuto per qualche annuncio ma ancora una volta grazie Stefano e complimenti da Piero ciao 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 ciao